Ma hai visto il film nuovo di Dario Argento? Beh! Eh, faccio una parte! Ma dai! Eh no? Bella quella parte! Faccio una parte anche abbastanza importante, insomma, non dico che sono il protagonista, però insomma, una parte piuttosto importante. Ma hai visto quando per esempio si aprono le finestre? No? Sto appartando, magari se ti presti attenzione. Niente, praticamente quando si aprono le finestre e senti quel rumore, come hai visto? Io sto lì! Ma te l'avete? No! Ma c'è il cinema, tra un mesetto... Ma pure quando si è aperta la porta all'improvviso... Quando si è aperta la porta all'improvviso... E l'immaginato che ha detto... Sto pure lì! Pensa! Non ti dico la fatica, eh! Perché ho dovuto fare un lavoro su me stesso... Che lavoro? Concentrazione... Che parte è? Che parte è l'acqua, sapete? Il fantasma! Ah! Un po' sentire di madre! E Crispin... Ma solo? Non è? Non è una mani? No! Non è una mani?